Dal 1 giugno non è più possibile ritirare nelle farmacie le mascherine anti-covid gratuite della Regione, ma a partire da venerdì 5 giugno la distribuzione ai cittadini toscani riprenderà nelle edicole. Basterà presentarsi dal giornalaio con la tessera sanitaria per ritirarne subito 10. Grazie a un accordo promosso dalla Regione con le associazioni e i sindacati di categoria e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione, le edicole sono state rifornite di una app che consente ai titolari tramite smartphone, tablet o pc di leggere le tessere sanitarie dei cittadini. Entro la fine di giugno sarà possibile ritirare sempre gratis e con le stesse modalità il resto della fornitura, che sulla base della disponibilità sarà compresa fra 20 e 30 mascherine per ogni cittadino. La Regione ringrazia gli oltre 1.200 edicolanti toscani che hanno aderito al servizio e il quotidiano La Nazione, partner dell'iniziativa.